Chris sempre più certa che Leo ha una storia con Nina attraverserà un momento molto difficile. La ragazza infatti avrà un incidente e finirà in coma, sospesa fra la vita e la morte. Leo accorre da lei capendo quanto sia legato a Chris. Il gruppo unito le sarà vicino e spinto anche dalla nascita di Allegra, la sorellina di Davide, farà tornare la forza in Chris. Leo a questo punto non potrà che scoprire le carte sulla sua malattia e lei capirà quanto il loro amore è vitale per entrambi. Arriva intanto il compleanno di 18 anni di Leo ma la sua felicità durerà poco. Il gruppo ormai unito nuovamente, decide di seguire Leo in quello che, solo lui, considera il suo un ultimo viaggio. Rocco in ospedale è sempre accanto a Bea, mentre Chicco segue l'evolversi dell'operazione di Flam. Grazie per la visione!